maternità ed intorni ciclo di incontri promosso dal movimento per la vita in collaborazione con umbria radio e il settimanale la voce ben trovati a tutti ben trovati agli amici di un bel radio e agli amici della voce che si seguono sul canale youtube io sono fra pasqualino un frate minore della porziuncola e questo è il secondo intervento che faccio per continuare un po una condivisione riguardo a un progetto che ho portato avanti per dieci anni presso le scuole medie di una scuola statale qui sul territorio che ha chiesto un intervento ecco come dicevamo nella volta precedente un po per una situazione che si è venuta a creare in questa scuola in cui c'è stato bisogno di intervenire così per sostenere questi ragazzi a vivere a interrogarsi sulla realtà dell'affettività e della sessualità nell'episodio precedente ho un po condiviso con coloro che hanno avuto il piacere e la pazienza di ascoltare quello che i due progetti legati alle prime e alle seconde medie quindi ai passaggi della vita nelle prime medie e un po all'amore a se stessi nelle seconde medie in questa occasione invece condividerò con voi un po il progetto che ho portato avanti con le terze medie e che ha fatto sì che tanti tanti ragazzi ecco potessero per lo meno interrogarsi su questo argomento per inciso dico dico questo parlando di numeri io non ho un numero esatto di persone che sono che siano state incontrate in questi anni ma avendo incontrato tutti i ragazzi di tutte le classi ho incontrato all'incirca 600 ragazzi ogni anno quindi in una decina da anni forse tra i 5 e i 6 mila studenti che hanno così che hanno usufruito di questo progetto questo lo dico semplicemente perché si possa rendere conto che c'è stata una grande disponibilità soprattutto degli insegnanti che hanno condiviso e accettato questo progetto che è sempre stato presentato in consiglio d'istituto accettato quindi dal corpo docente e del quale sono sempre stati ovviamente anche informati i genitori e dai quali abbiamo avuto sempre buoni riscontri devo dire buonissimi allora condivido con voi il progetto che ho portato avanti nelle terze medie ecco che ha cercato di affrontare appunto il tema dell'affettività e della sessualità sicuramente temi molto al centro dell'interesse di questi ragazzi devo però fare un piccolo preambolo perché io ho imparato questo alle terze medie abbiamo di fronte a noi due grandi categorie di ragazzi i ragazzi che ormai sono già in una piena età puberale che quindi hanno anche a volte anche delle delle ecco delle apparenze evidenti no le ragazze che hanno cambiato un po la propria fisicità e che quindi anche si atteggiano anche un po da ragazzine proprio nel pieno dell'adolescenza ragazzi ugualmente che magari manifestano già ecco un cambio anche nella propria corporeità contemporaneamente ci sono anche ragazze e ragazze che invece sono ancora un po bambini magari anche fanno fatica anche ad accostarsi ad alcuni temi occorre quindi anche in questo caso essere molto attenti alla pedagogia e a incontrare sicuramente entrambe le categorie sia quelli che sono già un po avanti e quelli che sono un pochettino ancora indietro rispetto a questo perché non possiamo semplicemente fare un discorso così dando per scontato alcuni passaggi quindi bisogna aiutare gli uni magari a essere a interrogarsi a non basarsi solo sulla prassi altri ad aprirsi magari delle domande di qualcosa che magari in quel momento potrebbe ancora essere non propriamente al centro dell'attenzione che cosa interessa però a tutti interessa credo a tutti interrogarsi su quali sono su quali siano i sentimenti che ci abitano allora nella prima parte di questo ci sono tre punti che verranno toccati in questo intervento nella prima parte ci interrogheremo su quali sono i sentimenti che abitano all'interno delle della vita delle persone quindi ciascuno di noi semplicemente facendo anche una carellata chiedendoci quali siano gli affetti ecco cosa sia l'affetto in senso stretto che è un sentimento che normalmente riguarda un insieme piccolo di persone magari quello familiare che è quello che è il primo sentimento che io incontro quando nasco e quindi riguarda molto non so i genitori la stretta famiglia lo stretto ambito familiare o poco più riguarda persone molto eterogenee tra di loro per età per professione per stile di vita e anche è un sentimento che normalmente dura per molto tempo può durare tutta la vita ecco potenzialmente è forse il sentimento più più resistente rispetto a tutti gli altri poi però crescendo ecco bisogna dire che nel momento in cui ci si affaccia non so nel mondo della scuola eccetera nasce il bambino incontra un altro sentimento che quello legato al mondo dell'amicizia è sempre l'affetto ma qui riguarda invece una categoria diversa di persone di solito molto simili a sé il mondo dei pari così la psicologia lo definisce dove tendenzialmente io cerco persone molto simili a me per età per interessi a volte anche per per genere quindi facilmente non in maniera assoluta ma facilmente i maschi cercano più altri amici maschi con cui fare giochi competitivi e facilmente ecco non in maniera assoluta ma anche le femmine cercano altre femmine per fare giochi più collaborativi ma questo non in maniera assoluta ma diciamo che ha queste caratteristiche ecco l'affetto che sta alla base dell'amicizia invece forse è il sentimento un pochettino più così non così stabile che potrebbe finire per delle cause anche molto molto semplici ecco ma che loro già incontrato per esempio nel passaggio dalle medie dall'alimentare alle medie in cui hanno perso sicuramente qualche amicizia però poi arriva nella vita di questi ragazzi un terzo sentimento che prende in maniera così anche inaspettata prende possesso di questi ragazzi e che li trova spesso e volentieri in pratica il sentimento dell'amore che entra in tanti tanti modi prima di tutto entra attraverso l'interesse per persone diverse rispetto a sé che hanno delle caratteristiche anche non simili alle mie ecco qui potremmo già per esempio dire che il gruppo dei maschi per esempio tendenzialmente si interessa anche all'interno del gruppo dei maschi ci sarà qualcuno che si interessa del mondo femminile quindi iniziano a mescolarsi un pochettino anche questi gruppi fino a quando poi ecco questi interessi cominciano a essere vissuti sempre con qualche difficoltà ma poi arriva qualche qualche situazione per esempio non so l'amore a prima vista che qualcuno chiama la cotta che ti catapulta all'interno di questo mondo non così preventivato ma che specie a quest'età provoca tante situazioni un pochettino inaspettate e facilmente poco controllabili ecco dall'adolescente che non sa come gestire un sentimento che ha una nuova caratteristica quella della totalità e che però ecco chiede di essere controllato ecco questo sentimento che quindi entra un po' nella vita dell'adolescente chiede di essere vissuto compreso un po' controllato un po' mitigato per evitare che ecco venga così venga esasperato con delle conseguenze magari anche non sempre felici come magari fughe o altre cose di questo tipo di fatto poi possiamo dire anche questo che poi nasce una coppia nasce l'interesse per qualcuno con la quale nasce una piccola storia d'amore e questo è la prima parte cioè cercare di capire come si presentino dei sentimenti all'interno della vita delle persone che devono essere messi in fila compresi anche un pochettino distinti perché non ci sia confusione tra di essi questi sentimenti però hanno bisogno anche di dialogare tra loro infatti ci sarà il momento in cui la famiglia cercherà di trattenere un po' il figlio e la figlia che forse potrebbe vivere soprattutto il sentimento dell'amore in maniera esuberante, totalizzante anche in maniera forse anche un po' forse eccessiva per cui dovremo mettere in dialogo l'affetto ecco dei genitori soprattutto con ecco con questo nuovo sentimento lo stesso anche il sentimento dell'amore dovrà dialogare con il sentimento dell'amicizia perché non sempre per esempio potrò dedicare tutto il tempo che dedicavo prima agli amici e quindi dovrò in qualche modo trovare un equilibrio tra questi due sentimenti e anche questo è un passaggio non semplice per gli adolescenti che vanno aiutati a vivere questa è la prima parte, i sentimenti entriamo nel secondo argomento di questo piccolo progetto che è io in un corpo che cambia se è vero che il ragazzo, la ragazza con cui stiamo parlando sta vivendo un passaggio anche attraverso il mondo dei sentimenti è vero anche che sta vivendo in maniera prepotente ecco un passaggio anche a livello corporeo e qui ci troviamo di fronte anche a due mondi totalmente diversi perché normalmente almeno nella nostra cultura le ragazze vengono aiutate a comprendere anche questo passaggio attraverso degli incontri anche molto frequenti con la madre e poi con un esperto, il ginecologo, la ginecologa con cui magari potrebbero confrontarsi su questo invece il mondo maschile è un po' più in questo preda diciamo della prassi dello scoprire in qualche modo che questo cambiamento corporeo non solo si sta compiendo ma anche di tanti altri risvolti quindi almeno nella nostra cultura non c'è una prassi di conoscenza scientifica oppure medica oppure di passaggio se non in alcuni casi che dovrebbero essere ancor più valorizzati di fatto tutti si trovano di fronte a questo grande cambiamento che è il cambiamento corporeo con tutte le conseguenze che abbiamo anche affrontato durante l'incontro con le seconde medie quindi il rapporto con questo corpo che sta cambiando sta assumendo connotazioni diverse rispetto a quelle che avevo da bambino il corpo non è più così anche generico sta assumendo caratteristiche tutte nuove con nuove potenzialità come quelle per esempio sessuali che prima non c'erano per un discorso oggettivo la pubertà ha portato anche alla possibilità anche di compiere degli atti sessuali e addirittura di generare la vita e qui nascono molto anche ecco le differenze come dicevo anche un po' all'interno del gruppo dei maschi all'interno del gruppo delle femmine quindi ci sono molte distinzioni che vengono rimarcate sicuramente ma che poi dovranno trovare anche un loro sviluppo e che dovranno essere sostenute per esempio attraverso quello che in psicologia si chiama il meccanismo della conferma che accenno magari in maniera molto molto semplice ma che tutte trovano sempre un po' una conclusione nel valore della persona che poi è quell'amore a se stessi di cui abbiamo parlato nell'incontro con le seconde medie la terza parte abbiamo parlato dei sentimenti abbiamo parlato del corpo ovviamente in questo contesto l'ho fatto in maniera anche molto veloce parliamo ora della sessualità la sessualità che viene scoperta perché la sessualità è scoperta in effetti vige questo meccanismo che la sessualità venga scoperta attraverso tante vie opportune altre meno opportune una delle possibilità è anche quella che offre la scuola attraverso la biologia attraverso anche la conoscenza del proprio corpo di fatto in qualche modo il ragazzo o la ragazza delle medie viene a conoscenza di questa realtà e si deve chiedere cosa sia cosa sia che definizione dare alla sessualità perché la definizione poi veicolerà anche che cosa me ne farò di questa nuova realtà allora io normalmente attraverso poi magari delle domande attraverso non so un po' una riflessione propongo questa definizione che la sessualità è qualsiasi gesto corporeo compiuto da due persone legate dal sentimento dell'amore per cui anche solo una carezza un tenersi per mano di due persone legate dal sentimento dell'amore quello è un gesto sessuale non è solo il gesto sessuale propriamente detto ma qualsiasi gesto corporeo tra due persone legate dal sentimento dell'amore questo esclude non so ecco anche non so per esempio tanti gesti che propriamente non potremmo definire sessuali ma genitali laddove magari la genitalità è tesa semplicemente al soddisfacimento dei piaceri magari attraverso non so faccio un esempio i rapporti occasionali o addirittura le violenze o addirittura gli abusi queste cose non potremmo chiamarli gesti propriamente sessuali ma dovremmo chiamarli gesti genitali perché usano i genitali magari con il fine del piacere o il fine non so della violenza non so tanti altri fini ma la sessualità ecco la vogliamo vedere in maniera più ampia quindi qualsiasi ripeto gesto corporeo tra due persone legate dal sentimento dell'amore ecco questo è il concetto base che ho sempre cercato di trasmettere a questi ragazzi e far loro capire che la sessualità non è solo il rapporto sessuale come dicevo propriamente detto ma è qualsiasi gesto questo è un concetto molto importante di conseguenza ecco potrò decidere che cosa mettere in atto legato agli aspetti della sessualità quindi potrò decidere cosa farmene e potrò decidere con chi confrontarmi che è una cosa molto delicata perché a seconda del luogo in cui cercherò informazioni su questo argomento troverò sicuramente delle risposte differenti il primo intervento che era stato fatto presso questa scuola ha avuto poi come esito il consiglio l'invito ad usare preservativi e pillole per evitare gravidanze indesiderate malattie sessualmente trasmissibili che ha un suo perché nel senso che dà una risposta ad un gesto rendendolo diciamo togliendogli quello che veniva considerato un pericolo quindi una maternità indesiderata oppure una malattia sessualmente trasmissibile il progetto che abbiamo sviluppato ha cercato di fare un passo più grande cioè di dire guardate ragazzi non si risolve semplicemente dicendo questo anche se questa è un'informazione che potete avere ma cercando di capire che questi gesti fanno parte di un contesto più ampio che è il contesto dell'amore e non semplicemente della fisicità propriamente detta che potrebbe svilupparsi in tanti modi quindi di fare un passaggio l'invito che ho sempre fatto a tutti quindi è di confrontarsi con persone che magari potrebbero ritenere essere per loro portatori di significato ma soprattutto che qui viene la traccia principale del progetto la traccia che li invita a parlare con i loro genitori di questo ovviamente dove è possibile poi viviamo in un mondo in cui le famiglie non sempre sono coese anzi spesso e volentieri magari si trovano a vivere anche divisioni a volte separazioni a volte non facili però ho potuto riscontrare questo circa il 70-80% dei ragazzi a cui ho fatto questa proposta l'ha accolta ha parlato con tutti e due i genitori con uno solo oppure magari con altre persone della famiglia anche addirittura nonni che ritenevano sicuramente importanti per la loro crescita e hanno potuto grazie all'aiuto di queste persone a loro vicine che sicuramente gli vogliono bene hanno potuto non so credo proprio anche crescere sia nel rapporto con i genitori di fronte al quale si sono presentati non più come solo come bambini bisognosi di essere soddisfatti dei loro bisogni primari il cibo non so l'affetto la custodia ma da piccoli ometti o piccole donne che hanno potuto invece rapportarsi in un modo diverso e condividere con loro non so questo passaggio importante nella vita per fare questo ho ritenuto opportuno anche fornire loro un piccolo decalogo per il dialogo con i genitori invitandoli a non metterli in imbarazzo a creare le condizioni a fare domande intelligenti a condividere con loro non so quello che era stato detto a scuola perché i genitori potessero dare il loro contributo confrontarsi su questo e ringraziando poi infine i genitori per questo che per quello che avevano potuto condividere insieme e devo devo riconoscere che ho imparato molto da questi ragazzi che hanno saputo ecco veramente interagire con i loro genitori e hanno saputo anche prendere apprendere molto da loro apprendere molto e anche quindi trasmetterlo anche sicuramente a me ora questo progetto ha poi avuto una continuazione nel senso che non ci siamo fermati solo al primo incontro ma abbiamo tutti gli anni continuato a interrogarci su questo su questo tema e ad approfondirlo ad approfondirlo attraverso un progetto successivo che potesse farlo farli un po' ancora crescere interrogandoci poi su un argomento che era ad integrazione di questo che era quello delle differenze di genere e quindi della valorizzazione anche di quelle che erano legittime differenze condivido un concetto che ho ascoltato una volta e che mi è sembrato molto utile dal punto di vista filosofico quello che noi siamo quello che noi perché noi esistiamo diciamo così io esisto perché c'è qualcuno di differente rispetto a me la differenza è la motivazione filosofica per cui esiste l'alterità qualcuno di differente rispetto a me perché se Adamo ecco da Adamo è nata Eva non è nato un altro Adamo altrimenti non ci sarebbe stato bisogno che ci fosse un'alterità perché non sarebbe stata alterità quindi partiamo dal presupposto che la differenza vada riconosciuta e valorizzata come differenza non come diversità perché la parola diversità deriva dal verbo divergere quindi le diversità divergono e quindi non si incontrano non si scontrano spesso e volentieri mentre invece le differenze si incontrano addirittura possono formare un'unica cosa che è la coppia allora in questa piccola seconda parte del progetto abbiamo cercato di valorizzare e di mettere in atto le differenze cercando di tirar fuori a questi ragazzi e ragazze di terza media quali sono le caratteristiche principali che hanno senza paura quindi cercando di farli esporre cercando anche di far dire loro quali sono le cose più così più caratteristiche senza averne paura senza averne paura quindi descrivendosi e poi cercando di attraverso un piccolo schema entrare nella psicologia del maschile e del femminile cercando di evidenziarne semplicemente anche un pochettino le differenze per esempio su quattro grandi argomenti sull'intelligenza vedendo che l'intelligenza dell'uomo per esempio è più inclinata alla sintesi alla strazione alla razionalità alla semplicità alla presunzione quella della donna è più inclinata tendenzialmente più tesa verso l'analisi la concretezza l'essere intuitiva l'essere complessa e l'essere un po' autocritica diciamo così ecco ugualmente abbiamo fatto un passaggio sulla volontà dell'uomo e della donna e poi ancora sull'affettività sul mondo dei sentimenti e delle emozioni ecco cercando anche in questo caso di fare esempio un po' sui genitori cioè quello che loro vedono insomma del mondo dei grandi rispetto a loro dove magari tutte queste caratteristiche emergono in maniera evidente per poi arrivare all'istintualità e cercare di far capire come l'uomo sia più corpo il linguaggio principale del maschio è di solito un linguaggio molto corporeo questo spiega perché gli adolescenti i maschi tendano molto a fare sport molto fisici e anche ad avere contatto tra di loro contatti fisici anche tra di loro le mani sulle spalle il darsi le spinte non nel bullismo ma nel mondo dell'amicizia mentre la donna è più tesa al mondo dell'affettività al mondo così dell'amore e questo si rispecchia anche all'interno del mondo della sessualità propriamente detta perché la fisicità dell'uomo ha reazioni come dico sempre ragazzi ha reazioni fisiologiche più forti che richiedono meno preparazione in maniera molto evidente mentre invece il mondo femminile chiede una preparazione anche grande e anche molto più coinvolgente e totalizzante rispetto a quello che comporta il coinvolgimento dell'uomo e qui ho cercato poi anche a questo punto di dare un po' di caratteristiche prendendoli un po' da un libro molto interessante gli uomini vengono da Marte le donne vengono da Venere dando un po' dei nomi sempre un po' cercando di scherzare su questi argomenti che hanno bisogno di essere un po' ironizzati mistera giusta tutto il comitato femminile in questo caso per il miglioramento della casa l'uomo delle caverne la donna che si riposa parlando l'uomo elastico la donna onda ecco per dire fondamentalmente una cosa che abbiamo già accennato nel progetto delle seconde medie che l'amore è un'arte cioè amare qualcuno che è differente da me è sempre qualcosa da imparare ecco quindi è qualcosa di grande ma di fondo al quale non possiamo trovarci impreparati e va e va studiata va approfondita e in amore ecco ricordando loro che in amore si può sbagliare ma non troppo perché questo prova provoca sicuramente delle grandi difficoltà e questo progetto come si conclude dando loro alcune regole per riuscire ad amare e ad essere amati dicendo cose anche molto semplici ma credo abbastanza evidenti ascoltare comprendere parlare di sé condividere cercare sempre il bene dell'altro gestire i propri istinti mettersi in gioco questi sono i punti principali ecco poi come sempre che si concludono con una traccia che viene proposta in cui cerchiamo di non so far approfondire questi ragazzi su alcuni temi che sono sono emersi ecco ci sono delle tracce che io sempre proposto ma che poi potevano essere un pochettino adattate a seconda dell'andamento dell'incontro con questi ragazzi vorrei lasciarvi con un piccolo consiglio nel senso da poco la conferenza episcopale ha editato una collana nel 2021 una collana di etica in famiglia all'interno di questi di questa piccola collana editoriale c'è un libro di Maria Pia Colella tra l'altro è una psicologa psicoterapeuta a noi anche vicina che anche io conosco personalmente di cui ho tanta stima che ha scritto questo libro molto interessante educare i sentimenti e alla sessualità accompagnare la crescita del cuore dei nostri figli in cui ecco anche lei ha potuto approfondire questi temi magari sicuramente anche in maniera migliore rispetto a me però mi è sembrato un testo molto interessante perché riprende tanti argomenti che forse noi avevamo già in qualche modo toccato attraverso l'incontro con questi ragazzi e che ha ecco li ha sistematizzati ecco in maniera anche molto sapiente per cui vi rimando anche un pochettino questo testo che potrebbe sicuramente esservi utile nel caso in cui vogliate approcciare non so a questi ragazzi che si trovano a vivere qualcosa di grande e di fondo al quale però io credo che noi adulti noi che siamo un pochettino più avanti nella vita abbiamo il dovere forse anche però il piacere di poterli accompagnare e fare questi passaggi perché perché possano vivere una vita ecco felice anche in pienezza sapendo che ci saranno difficoltà ma che potranno sicuramente anche affrontarle con l'aiuto di noi che siamo un pochettino più grandi grazie a tutti e buon cammino a tutti Maternità ed Intorni ciclo di incontri promosso dal Movimento per la Vita in collaborazione con Umbria Radio e il settimanale La Voce